community.it don t.rain grazie! Buon pomeriggio a tutti! E' bellissimo essere qua. Innanzitutto ho imparato tantissime cose dai precedenti speaker, è pazzesco, dalla genetica alle missioni spaziali, ai sistemi complessi. Io oggi con voi volevo condividere una scintilla, una scintilla che è nata dentro di me, ma anche una scintilla che è nata da un sviluppatore anonimo, che si chiama Satoshi Nakamoto e che proprio dieci anni fa ha innescato questa scintilla che potrebbe sconvolgere come una bomba nucleare tutto il mondo della finanza per come lo conosciamo finora. E con voi parlerò di l'innominabile, quello che se fossimo in una saga di Harry Potter sarebbe You Know Who. Lord Voldemort, Bitcoin. Bitcoin è un mondo al contrario, è come Alice nel Paese delle Meraviglie, tutto quello che conoscete finora è stravolto, è capovolto. E per entrare in questo mondo è importante sfogliare piano piano l'apparenza. Innanzitutto volevo iniziare, chi di voi conosce Bitcoin, Blockchain o le cripto, alzate le mani, seconda volta faccio fare questo sforzo. Ok, fantastico, pochi, scordatevi tutto quello che avete letto, sentito. Fonte di asimmetria cognitiva o informativa di coloro che l'hanno trasmesso. Vi faccio un esempio sciocco. Parliamo di, l'innominabile ovviamente non ha senso, parliamo di Blockchain, la Blockchain ha questi poteri magici, tipo l'immutabilità. Sì, la Blockchain di Bitcoin, ma non la Blockchain di Ethereum. Non solo è possibile mutare quello che c'è scritto dentro, è stato fatto, in occasione della DAO. Quindi scordatevi e vedete con me in questo viaggio stupendo. All'inizio spaventa, ma andiamo in una profondità incredibile, una profondità che forse può essere interessante, forse può essere il nostro futuro. Questa scintilla in me, come è scattata, io sono un avvocato, un umanista. Mi hanno sempre interessato i sistemi di pagamento, sempre trovati affascinanti. Un incontro fortuito nel 2014 con un mio carissimo amico, uno dei più grossi esperti ai sistemi di pagamento, mi fa Simo, ma tu ti rendi conto del Bitcoin? Io avevo letto qualcosa, lo guardo e dico, ma questo che sta dicendo? Questo è un giuchettino di nerd che si scambieranno al massimo quattro oggetti di Marvel. E annuisco, perché sai, non devi sempre fare la figura che le cose, insomma, non le hai proprio capite, e lascio andare. Una settimana dopo mi chiama e dice, Simo, c'è il meetup a Milano, torna. Io non vivo più in Italia da un po' di anni, torna che c'è fondamentalmente gli esperti più grandi, più importanti europei. E allora a quel punto dico, forse mi sto perdendo qualcosa. Vado là, mi metto a leggere il paper di Satoshi Nakamoto, che è anonimo, e poi vi spiegherò perché è importante essere anonimi, del 31 ottobre 2008, in cui lui lancia due bombe pazzesche. Dice, questo è un puro sistema decentralizzato di scambio di denaro elettronico online, senza l'intervento di istituzioni finanziarie. Boom! Completamente decentralizzato. Non c'è bisogno di terze parti. Vado giù a leggere e capisco le implicazioni, credo di aver capito le implicazioni all'inizio, vado a questo meetup, ho un altro incontro fortunato, con altri due personaggi, Giacomo Zucco, che è uno dei più grossi visionari fisico-teorico, e Gabriele Domenichini, un imprenditore, profondo conoscitore di questa tecnologia, primo investitore in Italia in questa tecnologia, in società ovviamente estere, e loro mi aiutano a sfogliare e a capire bene questo white paper. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di non soltanto il denaro per internet, ma il denaro su un protocollo, sul network. Questo che significa? Viene meno il concetto di Stato, viene meno il concetto di società, di banca centrale emittente, viene meno il concetto di censura, viene meno il concetto di autorizzazione, viene meno il concetto di reversibilità. C'è una orizzontalità tra produttore e consumatore, fa chi invia e chi riceve. Tutto questo non può essere fermato, non può essere censurato. In più, Bitcoin ha un'altra caratteristica, che spaventa moltissimo. Qual è? Innanzitutto non bisogna chiedere il permesso, ma la seconda cosa è il tentativo di trasformare l'oro fisico ai tempi di internet. Perché? Perché Bitcoin ha... Cos'è che rende qualcosa di valore? Un store of value, o come lo chiamano la scuola economica austriaca, sound money, qualcosa che sia raro e che sia difficile o costoso produrre l'oro, che è sempre il bene al rifugio, ma anche Bitcoin. Potranno essere prodotti soltanto 21 milioni. Nessuno cambierà questo. L'emissione è matematicamente stabilita dal protocollo. Nessuno lo può cambiare. Quindi non è soggetta a manipolazione di alcune entità sui tassi di interessi. Quindi no inflazione, no deflazione. Non a caso il Bitcoin viene comprato in maniera violenta nel momento in cui c'è un aumento dell'iperinflazione in Venezuela. Quando c'è stato il crollo della moneta turca, c'è stata un'impennata di questi acquisti in Turchia, in Argentina è comune, così come nelle Filippine. Questo non lo vedete, riflesso sul prezzo della moneta? Per un semplice motivo, perché si compra peer to peer, in maniera completamente decentralizzata. Quindi noi abbiamo la quinta rivoluzione nel mondo del sistema bancario in cui viene meno il concetto di Stato, in cui viene meno il concetto di controllo. Come Internet ha ridato la libertà di espressione, la libertà di parlare e essere ascoltati, senza confini, senza in teoria essere sottoposti a alcuna censura, così il Bitcoin ha la potenzialità di ridarci la nostra libertà finanziaria, che forse è la più importante. Ma non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto con Internet, perché in Internet cosa è successo? Ha diventato uno strumento di monitoraggio di massa, di controllo di massa e anche di lavaggio del cervello. Ce lo dice Snowden, ce l'ha detto Wiklix, ce lo dice tutto quello che succede in Facebook, Google, eccetera, eccetera. Che errore abbiamo fatto? Noi abbiamo messo subito Torrent, un mezzo per poter filtrare filtrare qualsiasi controllo. Quello che vogliamo fare noi in Bitcoin, quello che stiamo lavorando adesso, che sono i dieci anni in cui è venuta la luce, ma sono pochi anni in cui si è capito la sua pericolosità, e come si è capita? Sapete come si è capita? Purtroppo. Wiklix, Assange, Assange era nell'ambasciata, non poteva ricevere più nessuna donazione, due senatori americani hanno bloccato qualsiasi pagamento bonifico, ha bloccato tutti i circuiti di pagamento, Amex, Visa, Mastercast. Non poteva più ricevere donazioni. Che succede? Purtroppo qualcuno ha avuto l'idea geniale, perché ancora il protocollo non era pronto, di mettere questo protocollo sotto riflettori. Lui ha ricevuto denaro nella forma di bitcoin. L'anno scorso ha ringraziato i due senatori, perché la ricchezza della fondazione di Wiklix è aumentata del 50.000%. Questo purtroppo però ha dimostrato agli stati che è un mezzo abbastanza incensurabile. Cosa permette il fatto che un quid non possa essere censurato? Innanzitutto che sia completamente decentralizzato. Non puoi colpire nessuno. Lo stesso attore del paper è anonimo. Molti sviluppatori sono anonimi. E quando hai tantissimi noti, come il caso Napster verso Torrent, per i giovani che sicuramente sono in sala e che sanno di cosa sto parlando, fa sì che, se tu non puoi individuare, o comunque è molto difficile, perché è molto disperso, chi vuoi abbattere non lo puoi abbattere. Questa è la decentralizzazione, ma in più la privacy, la privacy del mittente, cioè è anonimo chi invia e chi riceve, come l'indirizzo IP. E in più la moneta non deve essere, non deve avere traccia di tutti i passaggi che sono sottostanti. Questo ancora con Bitcoin non è possibile, è pseudo anonimo, è estremamente fungibile. Ma la ricerca che stiamo portando avanti, soprattutto la scadenza di alcuni brevetti, fanno sì che in un anno, un anno e mezzo, questo sarà possibile metterlo in pratica. Quindi abbiamo un DNA completamente antagonista. Prima parlavamo di DNA di genetica. Questo è un mostro, un mostro oppure un dio che ci permette di di liberarci, essere liberi, che permette di partecipare al sistema finanziario, tutti gli underbank, che permette di poter decidere i propri soldi, di non ricevere prelievi forzosi. Basta ricordare l'Italia, c'è Cipro, che tutti quegli 1 e 0 che fanno parte dei nostri soldi, che non sono più nostri, ritornino a essere con tutte le responsabilità che abbiamo nel nostro libero albitro, non nel libero albitro di qualcun altro. Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo il sistema finanziario tradizionale. Torniamo fuori dalla tela di Satoshi. Cos'è il sistema finanziario tradizionale? Sicuramente molto rassicurante. Noi abbiamo la fiducia in queste valute digitali, perché come sapete che euro, dollaro, c'è della stampata soltanto dal 35%, che si chiamano tecnicamente fiat money. Cos'è un fiat money? È una moneta che non ha un valore intrinseco e che qualche attualità centrale la decreta avente valore legale. Sì, perché dal 71, da quando nessuna moneta è più legata all'oro, il valore viene dato dalla fiducia che noi abbiamo in una banca centrale che non ne diminuirà il suo valore e che comunque avremo in cambio un qualcosa. C'è una fiducia che noi affidiamo. Noi sappiamo che questo tipo di sistema finanziario è permissioned, questo sistema finanziario ci può censurare, questo sistema finanziario può congelare i nostri fondi, questo sistema finanziario può fare riserva frazionaria e che significa questo? Perché ci dovrebbe interessare? Il prestito selvaggio dà luogo a bolle. La bolla su prime è un risultato di un prestito selvaggio. Ancora non ho finito il tempo che ha portato vantaggio sono stati molto cattivi con il tempo mi hanno detto che dovevo assolutamente rispettarlo che ha portato vantaggio a poche banche di investimento e per il principio della socializzazione delle perdita e della privatizzazione degli utili ha portato dei grossi svantaggi a tutte le economie e a ogni singola persona. Due DNA completamente diversi. Sinceramente il primo è avveniristico sembra impossibile però io ci darei un occhio sembra che abbia molti più vantaggi rispetto al secondo. Nel secondo perdo di sicuro sicuramente il frutto del mio lavoro sì lo posso spendere dove mi pare forse ma il frutto del mio lavoro oggi vale 10 domani vale 15 no scusate oggi vale 10 domani vale 5 e quando dovrò pagare la retta dei miei bambini io dovrò dire ragazzi puntate sulla borsa di studio. DNA completamente diverso antagonista è nato per stare fuori delle regole è nato per essere un linguaggio di valore che è nato per essere scisso dallo Stato lo Stato non lo riconosce e quindi è molto probabile chi lo comanda? Voi mi chiederete non lo comanda nessuno ci sono tre attori fondamentali che sono i miners i nodi e i developers ognuno di noi può essere un nodo ognuno di noi può essere un developer che ha le capacità è aperto e devo trovare un accordo su qualsiasi possibile sviluppo del protocollo se non c'è accordo non si implementa quindi ci sono delle discussioni infinite dei drammi degli interessi confliggenti delle guerre delle accuse andiamo avanti per mesi per anni ma senza il consenso di ognuno perché non si può imporre basato sull'etica non si ottiene nulla il protocollo rimane tale e quale c'è stata una grandissima prova di forza un anno fa dai miners dal 54% di potenza di calcolo in una sola persona che si chiama e ha fatto una prova di forza uno strappo ci ha provato per avere più soldi si è nascata una guerra senza religione con il suo 54% della parte più importante che è la criptografia la proof of work non è riuscito a implementare la sua idea perché non era etico perché non era giusto quindi noi ci troviamo di fronte a un progetto un progetto che è fallibile per l'effetto Lindell ogni giorno che guadagna è un giorno in più della sua sopravvivenza e di ferita la sua mortalità nel 2050 cosa può succedere? nel 2050 può succedere che muore muore perché c'è uno stigma sociale ancora il bitcoin è il denaro della Silk Road il denaro dei sicari del dark web non è vero se i bitcoin sono anonimi e le transazioni sono ben visibili e quando c'è qualcosa di poco chiaro quei soldi rimangono là il metodo più efficace per commettere crimini sono i contanti all money laundering fatto dalle banche questi sono delle ricerche scientifiche non sono le opinioni ovviamente di un bitcoin maximalist come me può ipotesi di mezzo citando Adam Beck uno dei padri di questa tecnologia che ha inventato Ash Cash dire i bitcoin sono 21 milioni i miliardi di persone specie gli underbanked sono tantissimi credo che una nicchia funzionerà secondo l'economia dei bitcoin vivrà secondo l'economia dei bitcoin altro scenario possibile quello ottimista è un linguaggio di valore che coesisterà con altri linguaggi di valore sicuramente noi abbiamo aperto una voragine è possibile vivere senza il controllo di autorità centrali e è possibile vivere in manida etica e 48 secondi che mi rimangono vi racconto una cosa che nel mondo reale non potrebbe mai accadere grande guerra su un cambiamento contrapposizione con il più famoso evangelist Andrea Santonopolo su Twitter contro uno dei padri del bitcoin che però voleva fare una morsa malevola e a un certo punto dice in maniera spregiativa tu sei andata di evangelizzare hai consumato tutti i tuoi bitcoin e adesso sei povero fai schifo l'altro gli dice è vero ma credevo che fosse importante per me comunicare al mondo questo valore lo sapete cosa è successo? in 24 ore ha ricevuto donazioni anonime per un controvalore di 2 milioni non aveva chiesto nulla la comunità ha ritenuto che lui avesse dato valore grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.